Io avevo le mie teorie che bensì sono state errate, sono comunque qui a narrarvi cosa vedremo oggi all'evento Apple di settembre almeno al primo evento Apple che ci dovrebbe essere questo mese ma per futuri aggiornamenti vi consiglio di attivare la campagna delle notifiche e iscrivervi al canale stasera ovviamente sarò in live, non so se su Instagram o qui su YouTube per seguire l'evento di Apple che si svolgerà appunto alle 19, però vi consiglio comunque di controllare il mio Instagram in descrizione vi aggiorno comunque anche su Twitter, vi consiglio di scrivermi anche là, molto molto importante e ovviamente poi ci sarà anche il video post-evento con tutte le mie primissime impressioni a caldo e domani con il video un po' più approfondito in cui vi racconterò meglio i nuovi prodotti Io avevo idee totalmente diverse, non pensavo di vedere iPhone, pensavo di vedere MacBook più che altro magari iPhone, non lo so, invece ovviamente la mia idea si è rivelata errata visto che ormai è praticamente confermato che vedremo iPhone, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max di cui non cambierà niente praticamente vabbè il design ormai lo conosciamo soprattutto per i nuovi 13 in cui dovrebbe cambiare solo la posizione delle camere non convinto neanche questa scelta di Apple che trovo abbastanza insensata sinceramente però ognuno fa le sue scelte, apprezzo io diciamo che apprezzo molto il design di Apple quindi sicuramente riusciranno a farlo sembrare bello anche questo poi iPhone 13 Pro dovrebbe avere come grande novità i 120Hz e basta insomma, piccolo fotocamera migliorata su Pro Max, solite cose sempre le solite migliorie sul Pro Max no, Apple secondo me no iPhone Pro e iPhone Pro Max devono rimanere insieme perché se voglio la massima qualità video mi costringi a pagare anche un display più grande che magari io non voglio invece il 13 Mini ormai lo vedo abbastanza inutile infatti il prossimo anno a parere mio verremo 2 da 6.1 3 di 14, 14 Pro e 2 da 6.7 14 Max e 14 Pro Max sarebbe un'idea sicuramente più meno banale ma più funzionale io ve ne aspetto iPhone 14 ce l'ha già, come dice lui, anticipato John Prosser io non ci credo sinceramente per la prima volta un suo leak ma ve ne parlerò prima o poi quando penserò che sarà a debito parlarne perché mi sembra troppo presto per tirare fuori una cosa così accurata come ha tirato fuori lui poi Apple Watch serie 7 dovrebbe essere solo un piccolo cambio di design ma un grande rivoluzione almeno per le amanti di Apple Watch dalle prime versioni io possiedo un SE quindi non ho potuto almeno assistere a tutte le varie fasi però promette bene promette bene io a me non piace molto quel design squarrato su orologio però boh vedremo si vedrà sarà sicuramente qualcosa di molto molto particolare anche nuovi colori che sicuramente non ha senso introdurre così tanti nuovi colori su un orologio che alla fine la massa lo prende ok o così o bianco già quello blu di quest'anno è stato un azzardo il rosso poi che è stato veramente comprato da pochi però capisco per la collaborazione con Product Red sia d'obbligo ormai però anche basta se non so se vogliono fare qualcosa di diverso il posto del blu introducono qualcosa di nuovo quest'anno però non lo ritengo come dire obbligatorio ovviamente anche Proster ci ha spoilerato tutto 41-45 mm ma con attacco cinturini uguale ai vecchi è sempre la solita carne per i pesci Airpods 3 il vero prodotto che mi interessa infatti io l'ho visto andando più caldo con l'ordine in cui dovrebbero essere presentati comunque di prodotti che siamo sicuri che dovrebbero essere presentati Airpods 3 l'evoluzione delle Airpods di seconda generazione perché Airpods 2 non si sono mai chiamate Airpods di seconda generazione anche se io le chiamerei più che altro Airpods 1.5 le Airpods 2 non esistono passando gli attenti Airpods 3 come hanno fatto un po' con lo Zesaflip da Samsung ma doveva uscire un bel video a riguardo ho rimandato perché ad agosto chi se lo cagava ora chi se lo caga un video sui prodotti di agosto e boh con questi Airpods 3 si sa tutto ma non si sa niente sappiamo quale funzioni potrebbero avere è un po' un casino però ormai il design non lo conosciamo non si sono avuti conferme cose ormai da febbraio quindi non sto qui a parlarvi il design è simile all'Airpods Pro però senza gommini senza la cancellazione del rumore e la trasparenza costruivano un po' di meno e ci saranno di base con custodia wireless cosa che trovo insensata perché così a noi mancherà un modello quello che ora è il modello a 179 Airpods 3 con case di carica ma normale non wireless a 189 le avrei viste tranquillamente benissimo però Apple è stronza iPad verranno presentati con i Mac come molti dicono però vi faccio una piccola anteprima come iPad di nona generazione che dovrebbe avere un refresh rate più alto non so di cosa parla ma sinceramente ok sempre il nuovo design di iPad Pro 2017 buono ultimo iPad con il tasto fra qualche anno dovrebbe uscire però un iPad SE che non si sa ancora cosa vuol dire però si vocifera da un po' sono incuriosito lo ammetto lo ammetto mi incuriosiscono molto questi prodotti un po' particolari della mela soprattutto la gamma SE io forse do anche l'Apple Watch SE che secondo me è la filosofia perfetta rispetto ad iPhone SE che possiamo discuterne Apple e poi iPad mini lo vedo più con i Macbook però se arriva ormai lo conosciamo ce l'ho fatto miliardi miliardi di video sul web in pratica dovrebbe essere iPad Air 4 in miniatura eh ottimo riassunto vero vabbè 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 non dico null'altro perché potrei essere offensivo verso Apple Macbook sicuramente non ne vedremo in caso no non ne vedremo ve la butto in per me non ci sono per nessuno ci saranno questo evento lo vedo una bella incognita secondo me c'è anche un bel po' d'hype quest'anno Apple sorprendici non fare come con la WWDC che ti hanno mandato tutti a fanculo quindi segnali lasciate like per questo video meraviglioso e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao facciamo partire con un altro figa visto che ora ho Mac con Final Cut grazie grazie regia grazie che schifo grazie